ragazzi sono gli ultimi minuti vabbè finisce un'ora va bene basta che non perdete basta che non perdete ho detto idioti e fa che ci vuole ma incredibile veramente incredibile non c'era niente veramente è una sfonda con una merota di prestigio veramente che bravo l'hai parata con i tuoi piedi? devo darle in mezzo non ho avuto scoprire troppi numeri